Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha presentato oggi la rilezione semestrale sulla criminalità in Italia. Ebbene emerge in tutta la sua potenza il ruolo e la pericolosità dell'Andrangheta. L'Andrangheta si conferma assoluta dominatrice della scena criminale italiana con interessi su quasi tutte le regioni, con 46 locali, come si chiamano in gergo, censite solo al nord, sempre più abili ad infiltrarsi nei comuni e sempre più ricche grazie al traffico di droga in Europa, Sud America, Australia e Stati Uniti fino all'Africa occidentale. È uno dei passaggi evidenziati nella relazione semestrale della DIA gennaio-giugno 2022 sulla criminalità organizzata presentata dal ministro Piantedosi al Parlamento. Nei soli primi sei mesi del 2022 gli accertamenti antimafia hanno riguardato 5.794 imprese e quasi 25.000 persone, con le cosche ormai proiettate ad allungare le mani oltre i confini nazionali con grandi interessi per i progetti di sviluppo nella fase post-pandemica, a cominciare dal PNNR. Traffico di droga, estorsioni, usure scommesse si confermano i principali interessi invece della mafia siciliana. Nell'isola si starebbero affermando nuovi boss dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. In Campania la camorra si è fatta sistema, mostrandosi sempre più competitiva anche in economia e finanza con i cartelli che ormai gestiscono tutte le attività illecite più remunerative e con la delinquenza minorile in crescita nelle scuole dopo il lockdown. In Puglia è la mafia barese a condizionare la pubblica amministrazione con il brindisino che resta il crocevia della droga sotto il controllo della Sacra Corona Unita. Fondamentali avverte la DIA i controlli preventivi sulle grandi opere pubbliche che accederanno ai fondi europei come a Firenze e a Milano per le Olimpiadi Invernali, così come la collaborazione con Europol in grado di garantire importantissimi scambi di informazioni tra le forze di polizia.